Ciao, sono Simona, faccio l'insegnante di estetica e ho frequentato questo corso di pennelli, massaggio con i pennelli, grazie a una borsa di studio che Ecna Academy ha donato all'associazione di cui faccio parte, Cuore di Donna. Mi aspettavo sì un massaggio diverso dai soliti, ma è stata davvero un'esperienza straordinaria. In questi due giorni ho appreso, oltre alla tecnica, tantissime notizie importantissime riguardo a quella che è la gestione, il marketing, e la romoterapia. Noemi è semplicemente straordinaria e Ecna Academy è sicuramente un qualcosa di più di quello che ognuno di noi si può aspettare.